Il progetto Splar per l'accoglienza dei profughi continua il suo percorso anche in Molise, dove con scadenza mensili arrivano profughi che sbarcano in Italia con la speranza di trovare un futuro migliore. Anche se molto spesso lo stivale è solo terra di passaggio, perché gli esuli cercano fortuna in Europa nel nord, dopo un breve periodo qui. Anche a Termoli sono arrivati i primi 76 profughi, provenienti da zone di guerra o da dove si fa fatica a sopravvivere. Gli esuli sono giunti con un pullman presso l'ex hotel modenese sul lungomare nord della cittadina basso molisana, ora trasformato dalla proprietà in un centro d'accoglienza. Sono tutti ragazzi provenienti dal Centrafica, dall'Eritrea e dalla Siria, che hanno affrontato un lungo viaggio prima di giungere in Molise. Arrivano dalla Sicilia, dove sono sbarcati circa tre giorni fa, dopo un viaggio infernale durato circa due mesi. Sono provati timidi e silenziosi al loro arrivo, ma dentro di loro portano la speranza di chi è riuscito in parte nella propria impresa. Complessivamente sono 155 nuovi ospiti del basso molise, la metà dei quali sono stati accolti al colle di Petacciato, già in funzione dalla scorsa primavera. Al loro arrivo a Termoli, dopo essere scesi dal pullman, sono stati accolti dai gestori della struttura, i volontari del gruppo di protezione civile di Campomarino, lo staff di psicologi e assistenti sociali e medici che li hanno sottoposti ai primi controlli. I 76 immigrati subito dopo hanno consumato la loro cena per poi trascorrere la prima notte nelle 28 grandi camerate che la struttura termolese offre dopo la sua trasformazione. Nei prossimi giorni arriveranno altri 24 profughi e il centro di accoglienza al massimo della propria disponibilità sarà al completo.